Ricerca scientifica tutela delle risorse, turismo sostenibile e solidarietà. Il Trentino porta il suo patrimonio di esperienze e conoscenze in Tanzania, dove provincia autonoma di Trento e Muse hanno realizzato un centro nel parco dei Monti Uzungua, circa 2000 chilometri quadrati di foreste, un angolo di Africa tra i più ricchi di biodiversità del continente. Obiettivo accogliere turisti, studenti, ricercatori e sensibilizzare le comunità locali al rispetto dell'ambiente. Dal 2006 che noi abbiamo una sede molto rilevante, dove possiamo fare attività di incontro con le scuole, ma ospitare ricercatori, fare formazione, abbiamo addirittura un ostello. E più recentemente è stato realizzato il primo centro di visitatori e di informazione all'interno del parco, proprio all'ingresso di questo parco, per avviare un nuovo percorso, un percorso che parla di turismo, un turismo sostenibile, attento alla natura. Coinvolte nel progetto e nelle attività di educazione ambientale anche le associazioni trentine, supportate dalla provincia. Fare ricerca scientifica sul campo significa anche costruire una relazione con la comunità locale. Le associazioni di volontariato trentino, Mazzingira e Nadir, lavorano con le scuole perché i bambini costruiscano un rapporto positivo con la loro foresta e il Trentino su questo ha molto da trasmettere a loro, una lunghissima esperienza di tutela ambientale, di conservazione del proprio bosco e anche di valorizzazione di questi beni primari come possibilità di turismo e quindi di benessere per la popolazione.